Siamo ad Appiano Gentile Appiano Gentile? Siamo ben collegati, sia con Milano, in 40 minuti arriviamo 40 minuti siamo già fuori Ma soprattutto siamo anche vicinissimi alla Svizzera Che può essere... Oh, piccola fuga economica, Edoardo Magro C'è ancora qualcosa in più Beh, la posizione è assolutamente aderente alle loro richieste Ma soprattutto è famosissima perché qui c'è la pinettina dove viene ad allenarsi l'Inter No Mi manca il fiato, però va bene È già simpatica, Ida Io ti fai in te Cosa? Cosa? Su, serio? Ma tu manco queste squadre tifiche Juve Se gli manca il fiato, Juve o Milan Eh, l'altro Juve Ma fantastico Appena finiamo, volo la pinettina a vedere i ragazzi che magari sono in ritiro Magari mi faccio fare qualche autografo Qualche selfie Scusa, l'altra qual è? Perché da quello che so, la cosa più direttamente opposta dell'Inter è la Juve Ah, è il Milan Quello tu non lo sai, ma il lavoro di agente immobiliare non si riduce solamente a cercare case su immobiliare IT Solitamente infatti la gente in questione va nell'uzzi-puzzi all'offeggiare La scatogna bogna senza però dimenticarsi del tatto Sono Drew Thunder PogChamp PogChamp, perfetto È proprio Drew Thunder PogChamp se lo dici ragazzi Grazie mille ciccio ovviamente L'altra squadra di Milano è l'Inter Ok Quindi a Milano ci sono due squadre, l'Inter e Milan Però l'Inter è mica una rivalità da sempre con la Juve Da quello che so io la rivale diretta è la Juve Però, dite, visto che lui è milanese, quando dice l'altra intende l'altra della sua stessa città Ok, cioè l'Inter Allora, voi cercavate una casa Qualcuno può fare una sub così almeno l'Ip3 va a livello 2, grazie Tutti hanno una rivalità con tutte, tutti hanno la rivalità della Juve Ma io vi faccio una domanda Tutti sono rivali della Juve perché c'ha 39 scudetti e caga in testa tutti da 40 anni O tutti ce l'hanno con la Juve perché sei antipatico se vinci Per calciopoli, non so cosa sia calciopoli No, vabbè, io so che triggerà... cioè, io da quello che so la Juve è quella che ha tipo un botto di scudetti L'Inter perde sempre Il Milan è di Berlusconi Il Napoli vince ogni 40 anni E quando vincono sono contenti per altri 50 E la Roma Ergabidano! Basta, non so nient'altro di particolarità del calcio So queste, ragazzi E anzi no Più che l'Inter perde sempre, l'Inter se la tira per una cosa La cosa che volevo dire è Dell'Inter non è Quella è L'Inter se la tira per una cosa successa tipo 30 anni fa Che è il triplete Che hanno vinto tipo 3 coppe, no? La Champions, lo scudetto e un'altra competizione di cui non conosco nulla E se è l'unico che l'ha fatto, no? E visto che è successo una sola volta Ah, noi abbiamo 8 scudetti su 50 Però abbiamo il triplete, bro Capito? E loro se la tirano un botto per ste cose Cioè, è come se io me la tirassi Che 20 anni fa ho preso 110 a un esame Bro, sono 20 anni fa Il passato è passato O no? Però, giustamente Visto che è il loro unico modo di difendersi L'Inter dice questo Corretto? Ci sta Mentre la Juve ha tanti scudetti Però un po' sono rubati Però anche se tu dalla Juve Togli quelli rubati Che sono 3 rubati, giusto? O 2? 2 o 3 rubati Vabbè Sono comunque tanti A un toto di scudetti rubati Nonostante questo La Juve ne avrebbe comunque più di tutti gli altri Giusto? Quanti scudetti ha la Juve? Tipo 33? 34? Gli hanno tolti Gli hanno tolti gli scudetti e la Juve Quindi la Juve adesso Quanti ne ha di ufficiali? 36? Ok La Juve ne ha 36 Bene Qual è la squadra che ne ha di più dopo la Juve? E quanti ne ha? Sta cazzo di banana una di merda Cioè la squadra più vicina Alla Juve in termini di scudetti è l'Inter E ne ha una differenza di 16? Cioè mi state dicendo che la Juve ha vinto 16 campionati Dello scudetto di cui non so come si chiami Cioè non so quale sia il nome In più della squadra seconda in classifica? Ma non è tantissimo Cioè la Juve ha un cuscinetto utile Di 16 anni Prima che qualcuno La superi Non è tantissimo Cioè proprio tanto no? 16 anni bro sono un botto Sono una vita Umana Giovane Però la Juve non va mai alla Champions Giusto? Alla Champions League Quindi Vince in Italia E spacca il culo a tutte le squadre italiane Ma ogni volta che va all'Euro Cos'è europea? Champions League Immagino La prende nel culo O non ci va Oppure perde Ok Quindi alla Juve Paradossalmente gli si può dire Oh grande in Italia Però De fai cacà In Europa Mentre l'Inter Fa caccare in Italia Ma è un Tutti a rosicare la verità Più forte in Europa È che la Juve è la più forte in Italia Dai ragazzi Su piangete meno Che sembrate Mario Sturniolo Ok Questa cosa non la so Sinceramente Non la so Ne abbiamo due Ma quanti ne ha? Qual è? Allora Chi ha vinto più Champions E la Juve E la Juve quanti ne ha? Il Milan ha vinto Sette Champions? Bro Il Milan Sette Inter Inter 3 Juve 2 Azz Porca troia Il Milan è straforte Alla Champions Cioè il Milan È tipo Killer Alla Champions Però fa cacca con gli Scudetti Perché ne ha 19 Che sono un botto di meno Della Juve Quindi il Milan Ci è andato meno Ma c'ha una win rate più alta Giusto? Ha un win rate più alto Della Champions E più basso degli Scudetti Però le volte in cui vince Poi va anche Di là Assurdo Interessante Grazie 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 I miei figli oggi contenti Grazie Eh ma che cazzo ne frega Del Real Madrid A me La Juve però è arrivata 9 volte in finale Perdendone 7 Madonna Che sfiga La Juve Sono un sacco 7 sconfitte Godo E vi faccio L'ultima domanda Poi andiamo avanti Che abbiamo giusti 40 minuti Qual è La squadra Italiana Con Più Tifosi In Italia Cioè tu mi dici Chi è Chi ha più tifosi È la Juve La Juve Ha più tifosi E dopo Secondo voi Chi c'è? Beh immagino L'Inter O il Milan 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 e Inter Sono lì Quindi comunque Se vogliamo Le tre squadre Passatemi il termine Un po' così È Milan Juve Inter E poi c'è Tipo la Roma Il Napoli No? Cioè le top 5 Squadre italiane Sono queste Bene o male Rispetto ai 20 anni Di carriera 30 non so Da quanto giocano Ok Quindi la Juve Ma io non Ma perché Allora Io vi chiedo Vi faccio una domanda Veramente stupida Veramente Stupida Ve lo giuro Non voglio triggerare Nessuno Ma la Juve Perché è odiata Seriamente Perché tu Aspetta Perché ladri Ok Ladri Gli sono stati tolti I due scudetti ladri Però giusto Cioè le Juve Ne dovrebbe avere 38 Ma ne ha 36 Bene Ipotizziamo Che ci siano altri Tre scudetti ladri So 33 Sotta Cos'è Calciopoli Io non so Cosa sia Calciopoli Che cos'è Calciopoli Mi dovete di sta roba Cioè Non so che cosa sia Cerca gol Montare Juve Non È una città Di poco Come un nero Non credo Se uno ruba il portafoglio E poi ti dà la metà Di soldi Che c'è uno dentro Tu Gli auguri comunque Ma non c'entra Perché oggettivamente Ha sempre vinto Gli altri errori arbitrari Sono sempre stati Chiedi dove sono andati Gli scudetti Che hanno tolto la Juve E dove sono andati Gli scudetti Che hanno tolto la Juve A nessuno Se li tolgono alla Juve Non è che li danno A qualcun altro È una stronzata Non penso Le abbiano date Che non è che Ti tolgo lo scudetto A Poli E lo do Ad Atrix All'Inter Ma che puttanata è Ma non è giù Ma non ha senso Ma perché Ma non è detto Che sarebbe andata così Ma che cazzata Andrebbe rifatto Il campionato Perché era seconda Ma non c'ha senso E sociologia in generale Chi ha successo Chi vince Meritato o meno Fa sempre rusicare Sì Bopup Però io appunto Se l'ha capito Poli Che è una puttanata No ma zi Ma obiettivamente Non è che c'è Allora lo diamo al secondo La medaglia d'oro Ma no Lo rifai Escludi la Juve E non può partecipare La Juve Come punizione Per aver barato E la rifai Tra le squadre Che giocano Anche perché Se la Juve In quell'anno ha rubato Avrà fatto Gli equilibri diversi No Se è rubato contro il Milan Magari ha vinto contro il Milan Il Milan magari è sceso di punti Magari invece avrebbe affrontato Un'altra squadra Sarebbero andate diversamente Le cose O mi sbaglio E quando vuoi rifarla Ma che cazzo ne so E squalifichi la Juve Per un anno E dai lo scudetto A un altro Che cazzo ne so Sì ma è stata squalificata Quanti anni d'ho Non lo so ragazzi Eeeh Non ho capito Vabbè comunque Proprio un mondo marcio Quello del calcio All'anno fatta retrocedere Quell'anno Eh bro Allora è una punizione giusta Scusate Ma se io so qualcosa Passare dalla serie A Alla serie B È tanto brutto O sbaglio C'è la serie B È tipo sono i poveracci È tipo la SIL C'è la PIL E poi ci sono le copie È giusto Merda Allora la punizione È un calcio in bocca Eh allora è giusto però È giusto allora È vaffanculo Coglioni Coglioni Chi ti fate Tipo Il Verona È in serie B Non ne ho idea Di cosa stai dicendo Oli Non so di cosa stai dicendo Parla di mafia Ti piace sicuro Il documentario Calciopoli Ma Calciopoli Che cosa significa Che tipo hanno dato soldi Ai begli arbitri Cioè Ma io vi dico Cioè se io Cioè io do i soldi Agli arbitri A parte che se io vado Da un arbitro No adesso stai zitto Artice non mi rompe il cazzo Con i boss di Dark Souls Se io vado da un arbitro Gli dico ti do un milione di euro Se dici che è rigore Quando non lo è Vabbro ma se quell'arbitro Vada tipo dalle autorità Mi incula malissimo Cioè mi distrugge la vita Se l'arbitro va Dalla pulizia A dire Bru c'è un messaggio Che mi hanno offerto Un milione di euro Per dire che C'è un Un rigore che non esiste È un massaggio Cioè hai perso Te sei morto Quindi anche l'arbitro Eh Sei intascato il malloppo Ed è scappato Eh Il merda Come facciamo Io adesso però Adesso io Rigiro la frittata All'interno dell'uovo Ma come facciamo Giustamente avete detto Un ragazzo prima scritto Però giustamente Poli Il dubbio Che la Juve rubi Ti rimane sempre Verissimo Correttissimo Giustissimo Haha E se io ti dicessi Ma Ma Attenzione Ma Giustamente Non ci si fida Della Juve Ma allora Non bisognerebbe Mai fidarsi Degli arbitri Che vi dice Che la partita Di domani Napoli Palermo L'arbitro Non sia stato Comprato Non ci avete mai Pensato A questa cosa Infatti ora C'è il VAR Il VAR È la Il rallenti Giusto È la Moviola Quella che tu Fai questo gesto Giusto Bomba Ah perché gli altri Hanno meno soldi Azze Quindi la Juve Essendo ricca Paga Il Milan Essendo povero Non può permettersi Di pagare Haha E allora La soluzione È semplice L'Inter E il Milan Devono diventare ricchi Mi sbaglio? È facile Basta che diventino ricchi Vi ho risolto Il problema Del calcio In Italia Ragazzi Prego Ti ho risolto Il calcio In Italia Poi le chiedi Degli stipendi Della Juve Durante il covid E cosa sono Gli stipendi Della Juve Durante il covid Mazzà Ho capito Beh È molto interessante Però questa cosa Molto interessante Questa cosa Non hanno pagato I calciatori Godo Porco dio Ci hanno i milioni Andassero a fare il culo Se non si prendono i soldi Un anno Se pensate che questa cosa È a favore Per me è correttissima Coglioni Cioiti milioni Drogati Grazie mille Pango ancora Magister Black Grazie a Jack Dog Per i 19 mesi Bentornato Mignico Grazie per i bit Sei il più forte del pianeta Grazie a The Director Per il sesto mese Assieme Amore mio Grazie a Pickmaster Per i 45 Bentornato nel canale Amore mio Bella piccone Grazie a Morpenusa Per i nove mesi Assieme Comunque durante i calciopoli Rinchiudevano gli arbitri Negli spogliatoi Bro Io devo vedermi sto documentario Ma c'è sto Veramente Esiste il documentario calciopoli Non oggi Ma ce lo posso Posso vedermelo su in live Cioè esiste Questo Un video che spiega tutto Però Io non voglio un video Che spiega tutto Dal punto di vista Tipo di un interista Perché è peggio È come se io ti dicessi Non so Io sono un giocatore di magic Ti parlo bene di magic Esiste un documentario Tipo oggettivo Di come sono andati i fatti Che non Guarda Che non sia Né interista Né juventino Una Oppure ce ne vediamo due Uno di una campana Uno dell'altra La verità Salta fuori Quello di Netflix È però oggettivo Patrizia Se sono fatti I fatti sono oggettivi Cioè Non è che Tu hai detto Che hai pagato l'arbitro O è successo O non è successo Non è secondo me Successo I giudici erano napoletani Mamma Dovevate dirmelo subito Dio cane ragazzi Scusami No Fate scherzi Va bene Va bene Stanne fuori No no lupo Io sono molto curioso Della dinamica Dell'odio Rispetto a una squadra Che obiettivamente Credo Per quelli che sono I puri numeri Puri Io non sono juventino Io non sono niente È forte Cioè Se la squadra Ha 36 scudetti E l'altra Ne ha 20 Probabilmente È più forte Cazzo O mi sbaglio Cioè Parca puttana Se io ho un fucile a pompa E te hai una pistola Ti tiro una fucilata Ti sparo in bocca Ti sventro il cervello No Quindi Io sono curioso Perché Se c'è un retroscena Tale per cui Voglio Voglio Indagare Se invece L'odio deriva dal fatto Che Sono forte Vinco E quindi Ti sto sulle palle Allora Mi permetto di godere Insieme alle juventini Sebbene questi potessero Potrebbero essere ladri Comprendi? Quello è il discorso Cioè Io Eh Questa è la cosa Che mi piacerebbe comprendere Esattamente quello che hai detto Cioè Poi Non metto in dubbio Che magari Abbiano veramente rubato Non so Sono di parte Non me ne fai un cazzo Sono neutralissimo Però è come dire Non lo so Tutti odiano COD Perché è un gioco Che vende Ma che puttanata È Probabilmente un gioco Che piace Ha tanti stronzi Però piace Tutti odiano Fortnite Perché è un gioco Che fa tanti numeri Ma non Cioè capito Non Dammi una giustificazione vera Oppure Cioè Allora io odio Che cazzo ne so Allora odiamo tutti Eh Oddio Tutti odiano Eh no È troppo facile dire Blur Mi direste di sì In tantissimi Tutti odiano Usain Bolt Perché è velocissimo Eh vabbè Ho sbagliato esempio Ho sbagliato esempio Tutti odiano La Quella che Fa i tuffi Come si chiama? Come si chiama Quella che Fa i tuffi? Quella brava Italiana No Quella che nuota La Pellegrini Tutti odiano La Pellegrini Perché è veloce A nuotare Giusto? E chi è Tania Cagnò? È quella di tuffi Io ti dico La Pellegrini Tu perché Tu perché non odi La Pellegrini? E vince sempre La Pellegrini però In campana eh No perché è donna Hai vinto Andiamo avanti Andiamo avanti Rick grazie per i 5 Poli guardati il gol di Montari 10 secondi Capisci la grandezza Della questione Bro ma avete rotto il cazzo Con sto gol di Montari Dios Cristo Adesso sono curioso Che cazzo è il gol di Montari? Ma chi cazzo è Montari? Qual è? Questo? Questo Milan Juve 2012 Questo è un calcio d'angolo Eccolo qua il gol Fuori Hai capito? No La parata Ma ragazzi Ma era gol Prima Maxese Poi puntare di testa Non è ancora rientrato chiaro Mazzè No Prima Maxese Poi puntare di testa Non è ancora rientrato Mazzè E questo è stato squalificato Buffon No Qua la Juve ha perso poi La Juve è andata in Serie B qua Non gli hanno fatto niente a sta roba? A questo è uno scudetto Veritiero? Cioè questo è uno scudetto top? È uno scudetto Uno dei 36 top? Scusate ma la colpa non è sua La colpa è di sto tizio qua Bandiera man È blu maglietta Giusto? La colpa è di questo Ma che dice lui? Cioè con lui cosa dice Riguardo a sta questione? L'avranno intervistato L'avranno corcato di botte probabilmente Avrà avuto qualcosa Ah perché non c'era il VAR? Ah perché non c'era la rallentatore una volta? Scusa ma non è vero Aspetta E quello che sto vedendo Che cazzo è? Scusa aspetta Ma questo Questa clip è del 2012 Giusto? Questa clip è del 2012 Quindi come la sto vedendo io A distanza di 12 anni L'ha vista anche Bandiera man Ah perché post partita E scusate perché non hanno semplicemente detto Ehi regà avete preso gol Fine Anche tipo il giorno dopo Il giorno dopo si vede il replay E vedi che è gol Bom La Juve ha perso allora Ma come non puoi Idiocam Ma che regola del cazzo è? Ma che puttanata è? Se il giorno dopo vedo Che è stato fatto un evidente errore arbitrario Gli dici Bro hai ricevuto gol Edi sta zitto Perché non funziona così? Ma che puttanata? Ma non c'ha senso Ha preso gol E non l'ha visto? Quindi se mentre fa gol L'arbitro si gira E lui non l'ha visto Non è gol? Cioè se mentre l'arbitro si gira Io prendo una pistola E sparo alla testa Del Piero E lui non l'ha visto Non mi dà il cartellino giallo? Ma andata cazzo di testa Ma non ha senso Ma non ha senso Porco dio L'hai vista in serie A come Poli sta alla pil Capito? Io sono bravissimo però Poli è esattamente come se Bolt Vince tantissime gare Più di tutti Ma ogni tanto Viene fuori Che è dopato E gli annulla Che è dopato È normale che venga odiato Ciao ciao Buona serata Che è dopato Come se E' un decapitato Va bene Purtroppo Gli abbiamo tolto qualche medaglia Sarà anche dopato Questo per l'ora Ha portato all'aggiunta Di una cosa Che si chiama Goal Line Technology Ma scusa esatto Ma mettere tipo Una griglia laser Fa Eh no perché La griglia laser Suona ogni volta Che passa buffon pure Però comunque Stareò bene alla drata Però io Dico una roba Ora adesso Vi giuro L'ultima cosa che vi chiedo Ma mi curiosisce molto A me ste dinamiche Ma io Oddio ho rotto tutto Io mi domando Ma è giusto Prendersela Con la Juventus E non con gli arbitri O il tizio bandiera Cioè è giusto Dire Juve merda Quando quel tizio lì Non c'ha gli occhi in capo Quel tizio lì Probabilmente avrà avuto Un licenziamento Sarà stato Già minacciato Tante volte Tante bandierina Cioè questo qui È un poveraccio No? Ha sbagliato È un coglione Cazzi sua Cioè Io non credo Che la Juve Possa dire No regà Era gol Segna Giusto? Cioè non è che dice Oh no regà Era gol Segna Non penso che abbiano Questo potere Di aumentare i punteggi In funzione della loro scelta Giusto? O chiedo A parte che Metà dei giocatori Quando li sfiorano Sembra che gli abbiano Dio Esploso una gamba Sta roba è una roba Che odio del calcio Ma va bene Fingono tutti E quindi nessuno L'avrebbe mai fatto Ma ipotizziamo Che la Juve Dicesse bro Effettivamente Abbiamo guardato Un video sul telefono Era gol Ci potete dare gol A loro Non penso che la Juve Abba questo potere Chiedo Cioè ho sbaglio E poi Quelle lavorative La Juve Si occupa Dell'Inter Quindi ora I dubbi Sono anche su di loro Potevano dire Che era gol Cioè potevano dire È gol E quindi Ti segnano gol Tu lo puoi dire? Io Io sono stupidamente Onesto Nel dirvi Regà Se io vado A 80 all'ora E La polizia Non mi fa la multa Vado dalla polizia Gli dico Oh zì C'è scritto 80 Cioè era Era gol Era gol Cioè era 80 all'ora E lui mi dice Eh io non l'ho visto 80 all'ora Avervenuto farlo Buffon Ah Perché Perché Buffon L'ha visto invece Sì perché Stava guardando Il palo Buffon Lo vede che è dentro Lo vede che è dentro Eh sì Ma chi è questo tizio? Basta questi qui Ma chi è sto tizio? Basta con questi qui Ma è dentro Clavorosa Ma sto tizio L'hanno licenziato Probabilmente no? Ma come è Telecronista Milan? Ma come? Ma scusa Ma la partita Non dovrebbe essere Fatta la telecronaca Da una persona neutrale? Cioè i telecronisti Non sono neutrali? Ma che puttanata Cioè fanno il tifo? I telecronisti Che io mi guardo Alla tv Tifano per una squadra Che magari Non è quella che tifo io? Ah perché c'è tipo la tv del Milan E poi la tv della Juve Ok Ok Ipotizzando 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 che l'avessero detto Ipotizziamo un mondo parallelo Dove Gigi dice Che è gol La Juve a 37 Il Milan a 20 Corretto? E no Uno in meno ne avrebbe No? Ne avrebbe uno in meno La Juve E uno in più Il Milan Quindi Vabbè 35 35 contro 20 E che cazzo Ve ne frega Cioè io parlo agli Juventini Che cazzo ne frega Ne avete 15 in più? Porco Dio Avete 15 anni Che vi potete segare Tutto il giorno E siete comunque sopra Che cazzo ne frega E dategli uno scudetto No? Avete il potere Di dire che è gol Dite Date uno scudetto Al Milan Manda scudetto Al Milan Manda Spedisci scudetto A Milan Via posta Prioritaria PQP1 Spedisci scudetto A Milan Così non vi odiano più No? E' risolto E' risolto Un altro problema Del calcio Spedisci scudetto Al volo Dai Ma che roba brutta Ma smettetela Di farci queste cose Questo qua è Conte No Conte Non si chiama Conte Lui Lui adesso è pelato Allegri La palla è entrata Ma che tranquillo Che lui è tipo Il capo della Juve No? Lui è lì che dice Ma guarda te Non ho visto la palla Ha ha Ah è l'allenatore del Milan Lui? E poi però è passato Ad allenare la Juve Guascone Hai capito? Eh Occhio furbo Lui ha detto Questi c'hanno i sordi Danno il gol Rizzoli Rizzoli è l'arbitro Guardate la Moviola E' gol Effettivamente io non capisco Perché non hanno guardato La Moviola Zì è veramente Cioè E' veramente Stupida sta cosa Il lato organizzativo Chi ha regolamentato Sta cosa E' un idiota Ma come non poteva Non l'ha appena detto Guardate la Moviola Ma l'ha appena detto Come vuol dire Ma che esisteva Ma come non si poteva Ma cosa significa Cosa significa Non si poteva Era un visionario Che si è immaginato Che un giorno Ha Cioè Era contro le regole Vedere Un replay O non era nelle regole Ma Dio camma Vi rendete conto che Questi qua Non vedevano l'ora Che accadesse Uno scandalo del genere Cioè Non vedevano l'ora Questi hanno lasciato Volontariamente Una zona grigia Del regolamento Per fare un grande gate Come la PIL Ma ragazzi Ma cioè Ma sei un incognonito Ma come fai a non saperlo Ma chi Chi è che scrive i regolamenti Eh Dai Ha fatto apposta Ma fate qualcosa Ristabilite la verità In questa partita Ma fate qualcosa Incredibile E poi piangete E poi piangete Poi Piangi Conte Questo uomo Posso chiedere indicativamente Quanti anni aveva In questo momento 40 50 Ma porco Dio Posso dire una roba Ma non si vergogna Dio cane Cioè Ma non si vergogna Piagne così A 50 anni Per una partita di calcio Cioè Serio Ma a prescindere Che poi avesse ragione Ma non dai Quando sei Tifoso Sfigatato No Ok 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 Guarda l'azione Piaggi Secondo me Cioè Secondo me Quello che io Se io fossi Juventino Io qui Mi starei segando Su una Una persona Così distrutta Da una cosa Del genere Però Oh Dale Abate Palla dietro Incredibile ragazzi Incredibile Abbiamo fatto gol E non ce l'hanno dato Pazzesco 12 assenti Però vedi Lui se l'è presa Con la Juve Lui ha sbagliato Qui te la devi prendere Con l'imbecile Con i cartellini in tasca Quello con i cartellini in tasca È coglione Che c'ha gli occhi Pieni di merda Come si chiama Lì Mariano Come cazzo si chiama È lui Che è tutto scemo O sbaglio Non devi di Juve Devi di Bro Bandiera Te sei un coglione Lo riempi di botti Allora li spacchi di botte Poi no O sbaglio Era l'ennesimo episodio Ho capito Ma li devi distruggere Tutti allora Questi no Te la prendi Con chi li paga Ma io vi domando Quindi Poi è venuto fuori Che quel tizio lì Vabbè Poi mi state dicendo Che è venuto fuori Che quel tizio lì Era pagato Perché Se così fosse Allora Ah no Ok no Quindi quando hanno detto Al tizio bandiera Gli hanno detto Bro Posso chiederti Che cosa hai visto E lui ha detto Boh Non ho visto niente No 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 E Basta E si è risolta così Con lui che ha fatto Un clamoroso errore E basta E quindi Adesso vi sto capendo Ora ho compreso Ho capito tutto È un complotto Giustamente Visto che lui non ha visto niente È pagato Siete degli idioti Cioè secondo me Secondo me Per parere mio Se non ci sono prove Siete degli idioti Però Parere mio Eh Poi se ci sono state Altre persone pagate Quelli Vanno in galera Azi Vanno galerati Vanno incarcerati Bisogna retrocederla In serie E Quella è l'ultima serie La B La E La F Quella che è Quella che è Bisogna andare fino indietro La Juve deve riscalare Tutta la ranked Da là alla Z Tutta Il contrario deve farla Ok Tutta la deve fa Dall'ultima alla prima Dalla Z All'A Bene Però La prima categoria Ecco Ma la prima categoria Non è la A È la prima Vabbè Deve rifare tutta la ranked Però Sì Se in questo Cioè in questo caso Quello che trovo strano è Poi Varanno pagato Arbit Tutto quello che vuoi Ma Però in questo caso Da fuori È obiettivamente Sbagliato Prendersela Con la Juve Lì vai da bandiera E gli dici Bro Ti smetto Soquadro casa Se vedo un messaggio Mandato da Juventus Instagram Che cazzo ne so Come ti passano le mazzette Ti carcero E facciamo una class action Distruggiamo la Juventus Ok Vai da bandiera E gli dici Bro Te Sei coglione E lo riempi di botte Poi gli dai la possibilità Di parlare Solo dopo Perché comunque Da milanista Sarei comunque incazzato Del fatto che lui sia Un coglione E gli dici Bro Adesso puoi parlare Lui con tutta la faccia distrutta Gli dici Che cosa è successo In quel momento E lui dice Boh Non lo so E lo riempi di botte ancora E poi gli dici Boh Questo è deficiente Radiatelo Dall'albo Dei bandiera Dei bandiera Fuori dai coglioni Perché uno del genere Non sa fare il suo lavoro E non è giusto Che ci rimetta Nel milan In negativo Nella Juve Con la reputazione Giusto? È sbagliato Obiettivamente è sbagliato Io l'ho sempre detto A calcio Bisogna tirar fuori Una chiave inglese Spacchi una gamba Uno Ti danno rosso E intanto l'altro L'hai accoppato E voglio vedere io Come cazzo calci La prossima partita Con il femore Che ti è entrato Nelle costole Come su Sholin Soccer Gamba d'acciaio E testa d'acciaio E un uragano Mentre tiri E un uragano Mentre fai un calcio Di rigore Questo è il calcio Per me L'unica cosa Del calcio che so È gamba d'acciaio E testa d'acciaio Ciao l'insocce Gamba d'acciaio Sono Mannaggia la troia Parecchi clown Triglati Di discorsi di poli Ma io Io brunch Non veramente Io non me ne frega Proprio un cazzo Cioè a me Mi interessa Piccolo tanja party Mi sa eh Un attimo solo A me non me ne frega Proprio niente Però A me interessano Proprio le dinamiche Che ci sono dietro Perché secondo me Sono molto interessanti Sono molto interessanti Secondo me Le dinamiche Perché Perché è bello Capire magari Il perché uno È odia O viene odiato O altre cose Secondo me Però Interisti onesti Prima di parlare Andate a vedere La squadra Che ha fatto Guido Rossi Non ho idea Di chi sia Guido Rossi Vedere Italia Corea Subito 2002 2002 Immagino Perché me lo consiglia Ma questo cazzo Si chiama Pizzul Dove devo andare? Ma questa qualità? Ma raga Sta andando a un frame Mezzo Ma cos'è questa qualità Grafica? Cosa cazzo è Sta roba? Però non sto capendo Un cazzo Sono dei fotogrammi Non sto capendo niente Ragazzi Veramente nulla La partita più maledetta Dell'Italia I mondiali Questo è gol Non sto capendo Questo è Del Piero Mi sa Quello è Pirlo Non sto capendo Un cazzo Sì Juventus Inter furto Inter 26 aprile 98 Oh Ronaldo Ma non è così Ronaldo Ma Ronaldo Non è così Io non ho capito Mi dovete spiegare Ho giù il rigore Del G Signori Scarpini vi saluta Qui finiamo La nostra È questo Aspetta Allora hanno dato Rigore Alla Juve Giusto E questi due Si sono scontrati Giusto Questi due Ne ho fatto Face to face Dovevano darlo all'Inter Però si sono scontrati Io non ho capito Io non riesco a capire Cioè Si sono scontrati I loro due Giusto Non puoi placare i giocatori Ah ma ha placato i giocatori Dice no basta Non giochi E adesso il rigore Per me Il Ronaldo Atterrato in aria Un rigore Grande quanto Un palazzo Gigi Simoni Che ha inseguito Ah questo Bianco è andato contro Blu Giusto Questo è andato contro Lui Ma secondo me No Sì Cioè non lo so Io sono ignorante A parte che io Vabbè L'avrei l'equilibrio Di un pagano Cioè io magari Boh Sono troppo veloce Faccio due passi avanti E scivolo Tu dici che è stata ignorata La palla Eh non lo so Però Boh Non lo so ragazzi Eh non l'ho capito E per me Questo non è Neanche rigore Per nessuno dei due Figurati Cioè secondo me Questo cazzo è mezzo coglione Stava andando troppo veloce Era col piede sbagliato E ha sbagliato palla Cose così capitano Non le fischiano Ok Willy se tu carichi Questa parte di VOD Sul canale Polima VOD Ci flammano Un anno A prescindere Go 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 È rigore sempre questo Ok Però poi è lui Che si è preso Una testata in bocca Io non riesco a capire Non puoi andare sull'uomo Senza guardare il pallone Ma dopo è stato Tipo anche lui È stato incarcerato Cioè anche lui Gli è stato detto Bro sei andato sul pallone Sì No E allora galera Tipo Molta Che cazzo ne so Gli togli i punti Gli dai un cartellino Che come cazzo Non so come cazzo funzioni Cioè lui ha detto No zio Stavo andando sulla palla Ma noi non possiamo sapere Che cosa girasse nella testa Di Inzaghi No Non so come si chiami questo Secondo regolamento Al massimo era ostruzione Quindi punizione a due Punizione quando tu tiri Ma c'è tipo la barriera Ho capito Ok Ah la devo vedere Aletina allora Dovrò ascoltarla Ma che punizione a due Ma che dice Ho letto un messaggio in chat Scrivi caso Maggi Calciopoli Eh ma non posso Adesso devo fare La roba con Atrix Mafia Maggi Angelo Maggi è Ma sarà lungo Ma Maggi è L'arbitro pagato Questo è l'arbitro pagato Giusto? Maggi Questo è quello Che ha ricevuto i sordi Questo è quello Che ha schesciato L'assegno Questo o ha staccato L'assegno Che poi non è Non è assegno Ma è Probabilmente Con tanti Ah era lui Quello che schesciava Questo Ah sì Questo è abbastanza C'ha un aspetto Quanto meno dubbioso Va detto Questa persona Non è lui E allora secondo me Lui dovrebbero Indagarlo Perché anche lui Qualche magagna Secondo me L'ha fatta Danilo Lucini È Dato A Ravenna Il 22 agosto 60 Che attività svolge? Commerciante Commerciante Mi appresto a fare Il mio Commerciante Ma ragazzi Ma è lunghissimo Ma è lunghissimo Questo Ma chi cazzo è Poi sto tizio? Sembra veramente Un contadino Ma chi è? Mi serve Tanto contesto È molto lunga Mi sa la faccenda Comunque ragazzi Io posso dirvelo Voi vi Cioè Voi vi Veramente Vi avvelenate il sangue Ma veramente Cioè Vi avvelenate Veramente Tanto il sangue Io sono convinto Che dopo queste 20 minuti di talk Ci sia veramente Gente Infastidita Da magari Messaggi in chat Io non penso Perché io non ho fatto un cazzo Io sono ignorante Io non so niente Però Io vedo proprio persone Che avranno Pochi Minuti Poco Sfelici Cioè Veramente Ragazzi Ma che brutto Ma ve la vivete Proprio male Veramente male Dovete Stare tranquilli Cioè Poi rubano Vabbè Ruberete anche voi Una volta Vabbè La ruota gira Prima gira Uba uno E poi ruba un altro No Così è anche il motivo Per il quale ho smesso Di seguire il calcio Però deve essere Orendo Deve essere Orendo Seguire il calcio Così Orribile Sì Cioè Anche perché Io mi immagino Se io fossi Veramente Dentro Inizia a vedere Tutto brutto Cioè Vedi Non lo so La Juve Veramente Arriva uno Gli spara Un polmone E gli danno rigore E gli dicono Eh Vabbè Gli hanno dato rigore Gli sono sparato In un polmone E quindi Inizia a entrare In un circolo vizioso Dove secondo me Te la vivi proprio male Cioè Tipo Non lo so Appunto Adesso è il caso Juve Però non lo so Anche l'Inter Dici Oh vabbè Ma quello era Fuori gioco Arbitro cornuto No Io so queste cose Arbitro cornuto Becilleo Figlio di troia Cioè Ve la vivete male Perché magari Invece l'arbitro Aveva poi Veramente ragione Quindi partite Prevenuti Rispetto a squadra A, B O C O D Solo per avvenimenti Che secondo me Non vi fanno godere Il bello Di E poi Bello Io non ce lo trovo Il bello Di questa cosa Cerca portiere Napoletano Insurte A gardaline No questo Sarebbe obiettivamente Molto bello Ma non lo cercherò Cioè Boh Parte fondamentale Per quelli Che seguono il calcio Ma vi rendete conto Che voi vivete Agganciati a un tumore Praticamente Ma ne siete consci Cazzo Ma Più chill No ragazzi Nel puzzo State più tranquilli Anche se uno ruba Vabbè Tanto ruba una volta Una volta ruba un altro Una volta paga il tizio Tranquilli Anche perché penso Che Io credo Che Soprattutto per come vanno le cose Ad oggigiorno Cioè nel 2020 Ecco io vi faccio questa domanda Ma Oltre al 2002 2008 2004 2009 Blablabla Cioè Nei giorni recenti Cioè 2020 2021 2022 Ci sono più stati Veri Scandali Tipo gente che paga arbitri E roba del genere Cioè negli ultimi anni No Ci sono stati Ma non per la Juve Parlo di tutte le squadre esistenti Quindi no Anche la Lazio Che cazzo ne so Sono successe brutte cose A livello di guardaline A bandiere Ma cartellini sbagliati Che la stragrande maggioranza Dice di no La stragrande maggioranza Dice di no Bene Allora io dico Ma ha senso Continuare a ricordare Cioè continuare a rifarsi Su Cose del passato Ok Cose di un passato Di dieci Quindici Vent'anni fa Dieci anni fa Avvelenandosi il sangue Non godendosi le cose Quando magari una partita Magari è vinta Perché uno è veramente Stato più bravo Magari è stata persa Perché veramente Qualcuno ha fatto cagare Magari uno Ha veramente sbagliato A schierare Totti Gioca da un botto Totti Cioè Invece no Invece per molti Anche la sconfitta Deve esserci No c'è No c'è la cosa Dietro dove In realtà lì L'arbitro avrebbe dovuto Dire figa La figa Cioè Capito Ha senso Agganciarsi ancora A delle cose Che vi fanno Obiettivamente Male Non vi fanno godere Il bello Di quello che è Probabilmente Questo sport La risposta è Sì ragazzi Vi invidio Nella vostra ignoranza Perché secondo me È un atteggiamento Ignorante Decidere questo Poi fate un po' Come cazzo Vi pare Io il calcio Non lo seguo Non lo seguirò E mai lo seguirò Però Sai no Talvolta È giusto pensare Detto ciò Mi serve il discord Di Atrix E guarda Poi li ci ridono un sacco Perché alla fine Mi piace il calcio Sono tifoso E finché resta Botta e risposta È bello farlo Poi gli ultras Sfanno cagare Secondo me però Non è Botta e risposta E basta Capito Secondo me Non è Botta e risposta Qua la gente Non si dicono De boia Ciao ciao La gente Adesso Alcuni di voi Avranno Realmente Il culo che brucia Per qualche messaggio Letto in chat Ma non tutti Eh Magari anche solo Il 10% Quindi io mi rivolgo A questi Cioè Voi che magari Vi brucia il culo Per l'Inter La Juve La Roma La Lazio Che cazzo ne so Raga Meno Cioè È brutto Secondo me Poi io Non ne so un cazzo Quindi veramente Sto ignorante Come il puzzo Però Il break Grazie per i 4 puzzi Assieme amore mio Davide grazie per l'ottavo mese Di compagnia Caro Pensa a chi scommetteva Sulle partite Dice Dottor Dottor Quelli sono veri scammati Eh Buonanime Già scommettono Ne sono coglioni Immaginati scommettere Essere inculati Davide grazie per il mezzo anno assieme Bentornato nel canale Caro e grazie a Ricca Ancora per il quinto mese Assieme Immaginati scommettere Sulle partite E poi Perdere per qualcuno Berruba Azzi Giochi col fuoco E ti fai inculare Cuglione E stigazzi Basta Eeeh Ho capito Va bene Io non ho il discord Di Atrix O ce l'ho il discord Di Atrix O ce l'ho il discord Dell'Atrix Vado a far la pipì E poi parliamo di calcio Con persone Arrivo subito Voi ragazzi Promettetemi Che nessuno Banna nessuno E nessuno Flamma nessuno Trenta secondi Dai per favore Ragazzi Stempero gli animi Molto velocemente Ieri sera Finita la live Ho messo il follow A Marinowski Su Instagram Banalmente Perché mi sono reso conto Che non l'avevo Mi scrive Mi scrive Due ore fa Mi fa Grande Poli È stato un vero piacere Conoscere anche te Let's go Sì è così che si fa Per forza Non ci posso credere Non ci posso credere Cioè Non È È incredibile ragazzi Non so veramente Perché non lo sapete Lui è l'inventore vero Delle zgoschi E Io non so cosa dire Io rimango bocca aperta Dinanzi a Tutta questa Questa incredibile cosa Metti in pausa Tanja amici miei E Giacomo Aschidi Mi santi in culi Perché ora Si fanno cose importanti Vaffanculo Ciò becca di merda Via È dritta Buonasera Ragazzi Salve 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 Eccolo qua Ciao Marti Ciao orco Ciao Mario Ciao Mattia Ciao Ico Ciao Aldo E ciao S Mi dicevano che stavo a guardare un video Stavo guardando Perché io non so niente di calcio S perché si vede solamente la S S Non so chi sei Chi è lui Il Sire Il Sire Ah il Sire Ah beh aveva senso Stavo guardando tipo Perché la gente dice che la Juve ruba E io non lo sapevo Ok E mi hanno fatto vedere il gol tipo di Montari E Dei detti anni fa Ma Montari non giocava con l'Inter No Io di calcio invece E io non Dico veramente Io non so Allora Casti Mi è venuta in idea Dimmi Già che tu te hai Mattia Negri Io Per essere diciamo riconoscibile Mi chiamo Mattia Attrice se vuoi Anche perché Anche perché se ci pensi Non potevi scegliere altre versioni O no No infatti È difficile Quindi ho pensato Invece che magari fare questa contraposizione Tu sei Poli E io so Attrix Ma come ti pare Perché tu dici Ah ho capito perché Perché se no la discriminante Era chiamarsi per cognome E io ti chiamavo Attrice E tu mi chiamavi Tu sei un genio Esatto E tu come mi chiamavi Eh Eh Attrice No No Io ti chiamo Attrice E io E il mio cognome Mattia Negri Mi si chiama per cognome Certo Ovviamente Sì perché altrimenti Secondo la mia idea Sarebbe stata Attrice Tu tipo Bo Circenze No Perché Perché Sarese come è sbagliato Censurarlo Perché Donate a Dai Senza gli opposti Donate a Dai Allora 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 Allora